Amore metto un film, però non ti allunga, non ti allunga, dai amore tanto non mi addormento, la coperta, non l'ho usata la coperta, no, no, alzati, no, a 90 gradi dritta così devi stare dritta, forza, dai mettiti dritta, tanto cosa permette, 5 minuti, lo dico io, oh, che è successo ai tuoi occhi, si stanno girando gli occhi, gli occhi, oh, dai, ma c'è ancora il sole, amore è basso, non ne posso più, ragazzi volete ordinare ancora? Eh, un 78, un 112, 73, 75, 59 anche, però ne due, 48, no, 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 due di quelli, due di quelli, allora fai anche un 112 dai, grazie mille, grazie, Borsi, tu vuoi fare qualcosa oggi? Non so, andiamo al lago, andiamo al rifugio e montagna? Amore, non ci voglio rifare niente, anzi, vado a dormire. A dormire? Quindi tu non hai proprio intenzione di fare niente oggi? Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie per la visione!